Calcio Serie D, un aggiornamento che riguarda la sessione del Trapani FC, secondo quanto riporta la testata giornalistica TrapaniOggi.it, il seguente articolo Trapani, l'FC Trapani e di Valerio Antonini, domani la firma anche per l'acquisto della palla a calestro Trapani. L'imprenditore romano alla fine della prossima settimana diventerà il padrone dello sport a Trapani. È fatta Marco Larrosa alla fine ha ceduto il suo 70% delle quote all'imprenditore romano Valerio Antonini. Alla fine il presidente Larrosa si è arreso e ha accettato di vendere anche le sue quote anti-Antonini domani, prevista la firma per l'acquisto da parte del venditore romano Antonini, anche della società della palla a canestro Trapani, della famiglia della palla a canestro. Entro la settimana prossima Antonini sarà il padrone assoluto dello sport Trapanese. Dunque in poche parole Trapani.it scrive che l'imprenditore romano Valerio Antonini è il nuovo proprietario del Trapani FC e della palla a canestro Trapani. La prossima settimana arriverà la firma ufficiale dello stesso. Dunque vi daremo aggiornamenti chiaramente nei prossimi giorni con le notizie ufficiali. Ripeto, questa è una notizia che ha riportato la testata giornalistica Trapanese pochi minuti fa e noi ve la stiamo dando. Dunque da Fede Corragone è tutto, un cordiale saluto. Prossimo video.